Dal mio osservatorio ho avuto la possibilità di verificare le differenze profonde che passano tra l'essere avvocato a Roma rispetto a essere avvocato a Milano. Per carità, il mondo forense è uguale dappertutto e gli avvocati sono una sola anima e un solo esercito. Però ovviamente le differenze riguardano soprattutto il contesto sociale e economico. Milano, per esempio, per il diritto di famiglia è un po' la capitale. La nonna sezione del Tribunale di Milano fa scuola in tutta Italia, non dimenticate il rito ambrosiano. La nostra Milano è una città internazionale. Non avete idea quanti stranieri sono qui, quanti matrimoni mistici celebrano a Milano e quanta complessità c'è dietro alcune vicende familiari. Per cui l'invito che io do sempre ai giovani avvocati è quello di fare uno stage in questa città, che è la piccola Londra, una città dinamica, una città frenetica, una città che produce. E questo avviene anche nelle libere professioni. Per cui l'avvocato matrimonarista a Milano deve soprattutto capire i meccanismi di una città che corre a 300 all'ora. A Roma c'è una vita forense legata alla Cassazione, legata al mondo accademico. Milano è una città, invece dal punto di vista forense, legata ai grandi capitali, alla professionalità, all'organizzazione quasi tedesca degli studi professionali. Per cui tutte e due le città, le due capitali, Roma e Milano, sono sicuramente una grande palestra di vita forense per tutti i giovani e sicuramente sono città che danno tantissime emozioni.